Salve a tutti e bentrovati a TCG Television Sempre in compagnia di Invisimals Desafios Occultos Ovvero l'edizione spagnola di Sfide Occulte, gioco di carte di Invisimals Speriamo stavolta di non trovare per l'ennesima volta Stingwing E iniziamo con Moon Howler Pup 150 Abbiamo poi un 650-650 che è un buon snapper leggendario Sempre Jungle Poi 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 Continuiamo con un vettore Uragano 150-0 La Mada de Jasmine Una carta amico Guarda le prime 5 carte del tuo mazzo e metti una in mano Poi rimiscola il mazzo Non male Ancora carta viola Equipaggiamento Absorption Questa non riesco a tradurla E poi abbiamo una carta girata Vediamo cosa sarà Una carta Metal Bungorilla Max 600-550 Sono un po' bello pieno Ancora Stingwing Non ne posso più di questo 300-300 Ipporocramus Colt E colt ha tre vite Niente male Bello grosso questo 550-500 Ed è un Moon Howler Max Ancora Jungle Venom Web Max Leggendario 650-700 E abbiamo ben due carte girate Quindi due olografiche Suppongo Sì, sì, sì Vediamo un po' Cosa abbiamo Abbiamo una carta diamante Metal Mat Colt 550-500 E poi abbiamo una carta vettore Diario Casador de Dragones Ah, questa carta praticamente Manda direttamente un drago dell'avversario Nel cimitero Così Non male Opa, partiamo subito con un ciccino 704-700 E no Sempre Stingwing Basta Sarà lo settimo che trovo Nelle millemila versioni Fossil Zaur Max 650-650 Poi abbiamo Monte Sant'Elena Più 200 a fuoco e ghiaccio Meno 200 a jungle e oceano Non male Iron Bug Max 550-700 Ottima difesa Poi abbiamo L'Amada De Scott Una carta amico Ah, metti in mano le ultime due carte Presenti nel tuo cimitero Non male Ha fatto non male Vediamo la holo Che Andiamo a spizzare È una carta oro Credo Sì Vediamo un po' È un max Ed è Ocean Dragon Max Oh, ottima carta 850-750 Niente male direi Buongiorno Non male iniziamo con un flameclaw colt poi continuare con una carta scudo del casador che avevamo già trovato un vettore 0150 nube dei insetti poi 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 salto evolutivo un'altra carta in un personaggio poi evolvere un personaggio un invisible da pappa max senza passare per il colt no niente male poi abbiamo ancora un vettore 200 0 un martello epico e infine infine una carta girata vediamo un po' cos'è oh oh è una carta fuoco spero che non sia chi penso io voglio vederlo molto lentamente no un dark sand flame max 800 700 di platino niente male che non so se plata scusate un secondo un po' metal plata oro diamante forse corrisponde all'argento all'argento italiano non male con carta ciao a tutti e grazie a rhoi ecco a e ecco 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 ecco